A partire da martedì 20 ottobre avrà inizio il nuovo evento in Genshin Impact, ossia un banner dedicato a un nuovo personaggio. Si tratta infatti di un personaggio che andrà a sostituire quello di 20 ed è un personaggio a 5 stelle. Il nuovo personaggio si chiama Klee ed è una tenera ragazza che si differenzia da tutti gli altri personaggi presenti nel gioco, non solo per via delle sue statistiche, parliamo come ho già spiegato prima di un personaggio a 5 stelle, quindi uno dei più rari, ma anche la sua abilità che consente di lanciare bombe e dare fuoco ai nemici. Come è possibile vedere in questo filmato dedicato a questo nuovo personaggio, Klee non si limita a scagliare esplosivi contro i nemici, ma è anche in grado di evocare dei piccoli serini esplosivi. Quindi riassumendo potremo ottenere a fortuna ovviamente sempre andando a pescare nella sezione Wish questo nuovo personaggio a partire da martedì 20 ottobre, quindi da oggi, ci sarà questo nuovo banner evento e potremo anche pescare altri personaggi tra cui Sucrose, Noelle e SingEQ. Grazie ragazzi di aver visto questo video, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e naturalmente a mettere un bel mi piace. Ciao e alla prossima!